Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani dopo le dichiarazioni del presidente della regione toscana Rossi in merito alla riorganizzazione delle centrali del 118. Che Fanfani si dimetta pure se non è contento, aveva dichiarato il governatore Rossi in occasione della festa del PD a Grosseto. Il governatore Rossi ogni tanto si lascia andare ad espressioni che un presidente di regione dovrebbe risparmiarsi, perché non può dire che se un sindaco si dimette per lui è uguale o invitare un sindaco a dimettersi, un sindaco che ha difeso la propria città. Dovrebbero avere a cuore le persone che hanno il coraggio di dire quello che pensano, perché questo presuppone che esse siano libere e non siano vincolate ad impegni di partito, ma siano liberi nel pensiero e nell'azione e dovrebbe avere rispetto di quelli che tutelano maggiormente la propria città, visto che lui è stato anche sindaco. Quello che ha detto è assolutamente inaccettabile, nessuno gli può tappare la bocca, ma insomma. L'assessore Marroni presente ieri ad Arezzo ha annunciato l'istituzione di una commissione che entro un mese dovrebbe risolvere la questione. In che modo? Se la commissione si comporta correttamente non può che dire che Arezzo è la sede migliore in assoluto. Se la commissione serve come scudo a decisioni già prese, allora il fatto si commenterebbe la sola.